Gelso fa perdere peso, allevia mal di testa e infiammazioni. Originario della Cina, e introdotto in Europa nel XV secolo, il gelso appartiene alla famiglia delle morace e viene coltivato soprattutto in Italia e Spagna. Sia il frutto che le foglie di questa pianta vengono usati nella medicina tradizionale cinese da secoli, hanno un sapore agrodolce, e sono ricchi di acido malico e citrico, caroteni e vitamina C. L'albero viene coltivato per il suo legno, mentre il frutto viene usato principalmente per alimentare i bacchi da seta. Ma in pochi sanno che è possibile usare le sue bacche per trattare numerose patologie, che includono ipertensione, colesterolo alto. Altri benefici di questa pianta includono il trattamento dell'invecchiamento precoce, la perdita dei capelli e le vertigini. Il gelso contiene composti che inibiscono il metabolismo dello zucchero nel tratto digestivo, facendolo assorbire più lentamente nel flusso sanguigno. E, ricco di vari acidi organici e vitamine, ma anche fibra dietetica, beta-carotene, pectina e resine. Contiene inoltre vari antiossidanti ed è utile per trattare febbre, infiammazione, mal di testa, tosse e diarrea. Se accompagnato ad una dieta sana, il consumo di gelso ci aiuta mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Il gelso regola i livelli di zucchero nel sangue, e grazie a questa eccellente proprietà evita il rischio di soffrire di obesità. Condividi il video se vi è piaciuto. Importante, questo sito web non dà consigli medici, ne suggerisce l'uso di tecniche come forma di trattamento per problemi fisici, per i quali è invece necessario il parere di un medico. Nel caso si decidesse di applicare le informazioni contenute in questo sito, lo stesso non se ne assume le responsabilità. L'intenzione del sito è quella di essere illustrativo, non esortativo né didattico. Potrebbe in